Vincere l'imperativo per trovare serenità e punti cruciali per la salvezza. Ben ritrovati amici sportivi e appassionati di calcio femminile. Un saluto da Riccardo Buffetti e Arezzo TV nuovamente insieme per seguire le gare casalinghe dell'Arezzo calcio femminile. Nella precedente gara le ragazze Amaranto sono cadute in casa contro il Milan complicando di fatto i piani salvezza. Quest'oggi al comunale città di Arezzo arriva la seconda della classe, da fortutto Monze Cane per la sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Forse è uno schema da calcio piazzato. Parte Gelmetti, la palla nel mucchio, stacca Moscia. Teci di testa, attenzione a Teci, la palla termina in rete. Arriva subito il vantaggio dal fortutto Monze Cane con l'autogol di Laura Teci. Che non è riuscita a spazzare la palla ma grazie anche al pressing della squadra avversaria. Ha sbagliato direzione del colpo di testa. Dunque dopo appena due minuti di gioco la fortuna di Monze Cane si porta in vantaggio in virtù dell'autorete. L'infortunio, chiamiamolo così, di Laura Teci. E poi Mencucci non riesce a tenere la palla in campo. Regalando di fatto la rimessa al Monze Cane. Peretti, prova la sforpisciata. Peretti da distanza! La palla che sfiora il pallo a destra di Antonelli. E crea un brivido, un nuovo brivido per l'Arezzo. A Terini. Alza il campanino nella zona di Razzolini. Anticipato nuovamente. Attenzione che la palla passa nella zona di Martani. Martani va il dribbling. Saltateci. Saltateci. Martani. Martani, il sinistro arriva al 2-0. Il 2-0 della fortuna di Monze Cane. Quando siamo al ventesimo. Con Martani. Che prima supera Antonelli. Poi lascia di tuarei entrare i difensori con tre compagni liberi dentro la di rigore. Riesce comunque a orientarsi e poi a mettere la palla alle spalle di Antonelli. Dunque quando siamo al ventesimo. La fortuna di Monze Cane. In vantaggio per 2-0. Nel miglior poi momento dell'Arezzo è arrivato questo raddoppio. A Terini. L'intervento poi di Carraro. Il tocco sulla sinistra per Gelmetti. Posizione regolare. 4 contro 1 a parte del Monze Cane. Gelmetti. Gelmetti il destro. Arriva il 3-0. Da parte del Monze Cane. Al 38esimo. Gelmetti in contropiede. Chiude la partita. Esce poco a dire. In questa occasione esultano i tifosi presenti venuti da Verona. per il 3-0. Occhio e blocchi dentro l'area di rigore. Patte Gelmetti. La palla al centro. Il colpo di testa. E arriva il 4-0. Il 4-0 con Carraro. Al 43esimo. E non c'è davvero storia in questa partita. Carraro è riuscito a sovrastare il difensore dell'Arezzo. E a battere Antonelli. Anche se la conclusione era piuttosto centrale. Non c'è arrivato l'estremo difensore dell'Arezzo. 4-0. Che di fatto. Possiamo dirlo. Chiude la partita. Di Fiore. Non riesce nel controllo. Bravissima Groff. Per il contropiede del Monze Cane. Martani sulla destra. Ancora Martani. All'indietro. Per Peretti. Peretti il sinistro. Da distanza. Il palo. E poi arriva il gol di Gelmetti. Però la posizione è irregolare. Ha colpito un palo davvero spettacolare. Peretti. Da distanza. Sulla ribattuta. Era in posizione irregolare Gelmetti. Serie di finte. Razzolini. Se ne va sul destro. Prova la conclusione. Razzolini. Sul fondo di pochissimo. Ed è questa. La Razzolini che vogliamo vedere nelle. Durante le partite. Pinna. Il tocco per Martani. Che intanto ha cambiato posizione. Con una compagna. Attenzione alla traversa di Martani. E poi il tap in. Sottoporta di Benincaso. Ma che traversa. Colpito nuovamente Martani. Traversa incredibile. Un tiro a giro. Che sarebbe stato nuovamente imprendibile. Per Antonelli. Arriva prima però il triplice fischio. E termina 4 a 0 la gara. Per il Mozzecane. Il tabellino ci dice. Dell'autorete. Segnata dopo due minuti da Teci. Poi al ventesimo. È arrivato il gol di Martani. Al trentottesimo. Il 3 a 0 del primo tempio. Del primo tempio ovviamente. A parte di Gelmetti. Al quarantatresimo. Arriva il 4 a 0 di Carraro. Nella ripresa. I ritmi sono abbassati. Arezzo. Ha provato. A far vedere qualche trama di gioco interessante. Ma è andata vicinissimo. I Mozzecane. Sempre andare sul 5 a 0. Con Martani. Ha colpito la traversa. E con il palo. Preso da Peretti. Al ventiduesimo. Della ripresa. Adesso Arezzo. Dovrà continuare il Tour de Force. Settimana prossima. Quando giocherà in casa dell'Inter. E quindi. Mister Bonci dovrà preparare molto molto bene. Quella partita. Perché potrebbe essere fondamentale. Per il proseguito della stagione dell'Arezzo.